Rete 8, che è la più grande emittente abruzzese, ha chiesto a Noto, che è appunto fedele al suo nome, con un conosciuto sondaggista, di fare degli exit poll. Ne ha fatto uno iniziale con una forchetta per tutte e due i candidati. Appena possibile mettiamola assolutamente in onda. Ecco qui, la vediamo, la vediamo e come vedete... Avevo detto che a mezzanotte e mezza avremmo avuto il nome del presidente e ce l'abbiamo. C'è una nuova proiezione che allunga ulteriormente, come vedete, la distanza che si avvicina adesso davvero ai 10 punti. 54,7 per Marco Marsilio, 45,3 per Luciano D'Amico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.